Ultimo respiro. Che cosa succede subito dopo l'ultimo respiro? Commento. La personalità, la mente, l'io comincia a disfarsi, come accade al corpo fisico che è divenuto un cadavere. Al trapassato vengono incontro coloro con cui nella vita fisica ha avuto rapporti d'amore, intanto alita nei luoghi in cui ha vissuto. Questo periodo del dopomorte, come tutti i periodi della vita da incarnato e da disincarnato, è scandito dal grado di evoluzione del trapassato e quindi varia da individuo a individuo. Un trapassato di bassa e media evoluzione tenterà ottusamente di rientrare nel suo corpo, che ormai è un cadavere, e urla per farsi udire, ma i vivi non lo sentono, nemmeno i suoi familiari. Patisce il freddo, la fame e la sete perché è ancora legato emotivamente al suo corpo fisico. In seguito, non del nostro tempo ma del tempo astrale, quella che era la sua vista torna a essere luce e quello che era il suo udito torna ad essere spazio.